Ben ritrovati su Sicilia 24 per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia. La cronaca in primo piano partendo da Catania dove i carabinieri durante un controllo nel quartiere Picanello hanno tratto in arresto un pusher. Vediamo il servizio. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania a Piazza Dante hanno arrestato un 44enne catanese pregiudicato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Incessantemente impegnati nel contrasto dell'illegalità diffusa e in particolare dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari dell'arma nel corso di un servizio nel quartiere Picanello hanno osservato i movimenti sospetti di un uomo che, visto uscire dal portone di un palazzo di via Donizzetti dopo aver prelevato una busta di plastica da un'autovettura, si era frettolosamente allontanato. L'uomo, subito riconosciuto dagli operanti poiché già noto per pregresse, vicende giudiziarie per spaccio di droga, è stato visto quindi incamminarsi con atteggiamento guardingo in direzione di via Vezzosi con la busta stretta tra le mani, inconsapevolmente però con i carabinieri a seguito. I militari sono intervenuti bloccando il 44enne e sottoponendolo a ispezione è stato trovato in possesso di quella busta contenente 210 grammi di marijuana poi sottoposti a sequestro. La successiva perquisizione presso l'abitazione dell'uomo ha poi consentito ai militari di rinvenire nella sua disponibilità anche un bilancino di precisione e materiale vario per il taglio ed il confezionamento della droga. Il 44enne, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato sottoposto dai carabinieri agli arresti domiciliari, ove permane all'esito dell'udienza di convalida. Restiamo nel Catanese ma ci spostiamo a riposto dove i carabinieri hanno invece arrestato due ladri sorpresi a rubare all'interno di un supermercato. Tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri di riposto, unitamente ai colleghi della stazione di Calatabiano, hanno arrestato due cittadini di nazionalità romena di 23 e 24 anni nella flagranza di reato di furto aggravato. Il responsabile della sicurezza di un supermercato, sito all'interno di un noto centro commerciale, ha allertato la centrale operativa della compagnia Carabinieri di Giarre, della presenza di due giovani che sembravano essere gli stessi che più volte in passato erano stati individuati come probabili autori di furti all'interno dell'attività commerciale. Immediatamente pertanto presso il supermercato in questione sono intervenuti i carabinieri delle due stazioni che hanno preso in custodia i due giovani che poco prima erano stati fermati dagli addetti alla sicurezza per un accertamento sul contenuto degli zaini che portavano in spalla. I militari hanno poi appurato che i due giovani, dopo aver provveduto al pagamento presso la cassa del supermercato di articoli per un importo complessivo di pochi euro, avevano riempito i loro zaini di prodotti per una somma intorno ai 300 euro immediatamente restituiti alle responsabili del supermercato. Gli arrestati sono stati posti a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto. Ci spostiamo a Palermo, parliamo di peculato, truffa e assenteismo alla RAP. La RAP è la società che si occupa della gestione dei rifiuti nel capoluogo siciliano. Ci sono cinque persone denunciate, tre di queste sono proprio dipendenti della RAP. Vediamo il servizio. I carabinieri del nucleo investigativo di Palermo, a conclusione di un'attività di indagine coordinata dalla locale procura della Repubblica, hanno denunciato cinque persone, di cui tre dipendenti della RAP, responsabili a vario titolo dei reati di peculato, truffa in concorso e assenteismo in danno della società partecipata del Comune di Palermo, operante nel settore della raccolta dei rifiuti. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo ha disposto per i cinque la fissazione dell'udienza preliminare al prossimo mese di gennaio 2023. L'attività investigativa, condotta nel periodo compreso tra settembre 2020 e marzo 2021, ha portato alla luce la condotta infedele di tre dipendenti della RAP che in concorso tra loro, in più occasioni e con modalità fraudolente, attestavano falsamente la presenza in servizio di uno di essi, utilizzando il suo tesserino magnetico e favorendone l'ingiustificata assenza, causando in tal modo un danno economico all'amministrazione di appartenenza. Inoltre, a uno dei tre dipendenti è stato contestato, reiteratamente, il reato di peculato in quanto, in più circostanze, avendo in uso il veicolo adibito alla raccolta dei rifiuti, si appropriava di parte del carburante, avvalendosi di altre due persone non dipendenti dell'azienda, considerati quindi responsabili in concorso. Ed ora una notizia di cronaca da Scicli, nel Ragusano, dove un uomo era evaso dagli arresti domiciliari e dopo un inseguimento i carabinieri sono riusciti a beccarlo e adesso si trova in carcere. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Modica, unitamente ai militari della tenenza di Scicli, hanno tratto in arresto un giovane albanese disoccupato e pregiudicato in ottemperanza a un ordine di esecuzione di espiazione pena emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. Il 23enne, che si trovava ai domiciliari, si era di fatto reso irreperibile da luglio, facendo perdere le sue tracce. Nel frattempo, inoltre, la misura alternativa della detenzione domiciliare era stata revocata e sostituita col regime di detenzione ordinaria in carcere. Grazie a una lunga attività di indagine, i militari dell'arma sono riusciti a localizzare il fuggitivo, intervenendo presso l'abitazione della sua ragazza, anch'ella di origine albanese, sita in località San Pieri. All'arrivo dei carabinieri, il ricercato ha provato a fuggire a piedi, arrampicandosi sui tetti delle vicine abitazioni. Dopo un lungo inseguimento, i militari lo hanno circondato e bloccato. Il personale operante ha poi proceduto a effettuare una perquisizione personale e locale che ha dato esito positivo, consentendo di rinvenire una grande quantità di sigarette, tabacchi, soldi contanti e apparecchi cellulari, verosimilmente di provenienza illecita. Sono al momento in corso ulteriori accertamenti per verificare la provenienza di quanto ritrovato, che contestualmente è stato sottoposto a sequestro per il successivo eventuale riconoscimento da parte delle persone offese. L'uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Ragusa, dove dovrà espiare la pena residua di 5 anni, 4 mesi e 28 giorni, il pagamento di una multa e la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato per reati contro il patrimonio, quale furti, anche aggravati, e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Restiamo nel ragusano, ci spostiamo a Modica e ovviamente cambiamo argomento. Due misure cautelari per altrettanti soggetti, uno in carcere e l'altro ai domiciliari, 7 persone indagate e un maxi sequestro di oltre 115 milioni di euro. Il bilancio di un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Modica è coordinata dalla Procura di Ragusa. È stato accertato dai finanzieri un corposo profitto a vantaggio degli indagati, i quali avrebbero organizzato una truffa ai danni del bilancio dello Stato nel settore dei bonus edilizi, ovvero bonus facciate e bonus ristrutturazione. Ancora nel ragusano, ma a Vittoria per parlare di spaccio di sostanze stupefacenti con gli agenti della Polizia di Stato che hanno tratto in arresto un pusher. Tutti i dettagli nel servizio. Nell'ambito di mirati servizi di prevenzione e controllo del territorio predisposti dal questore di Ragusa per contrastare ogni forma di illegalità, personale del commissariato di Vittoria ha tratto in arresto un cittadino extracomunitario di 25 anni, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Una delle pattuglie del commissariato impegnate nel servizio di pattugliamento di quel territorio, perlustrando la zona del centro storico in via Vicenza, poco distante da piazza Manin, ha notato un soggetto a bordo di uno scooter nero privo di targa che alla vista dell'autovettura di servizio della Polizia ha accelerato per non essere fermato e controllato. Il soggetto non è però riuscito nell'intento di fuggire poiché gli operatori dopo un breve inseguimento sono riusciti a bloccarlo procedendo a una perquisizione personale nei confronti dello stesso estesa anche al motociclo su cui il soggetto viaggiava. La perquisizione ha fornito riscontri positivi poiché occultato all'interno del marsupio che l'uomo portava a tracolla, gli agenti hanno rinvenuto mezzo panetto di hashish e una banconota di 10 euro. La perquisizione del motociclo ha permesso di rinvenire occultati all'interno del vano portacasco un bilancino di precisione perfettamente funzionante e un taglierino intriso di sostanza stupefacente. A seguito del rinvenimento della droga e degli oggetti comprovanti l'attività di spaccio, l'uomo è stato accompagnato presso gli uffici del locale commissariato di pubblica sicurezza e tratto in arresto. Dopo le formalità di rito su disposizione del PM di turno, l'arrestato è stato tradotto nella propria abitazione e regime di arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. Parliamo adesso di un tragico incidente avvenuto ieri ad Agrigento. Due persone purtroppo sono morte, altre due sono invece rimaste ferite e una è in gravi condizioni. L'incidente stradale è avvenuto ad Agrigento lungo via dei fiumi. Siamo all'ingresso del villaggio Mosè. A scontrarsi frontalmente sono state tre auto. Le vittime sono Salvatore Lentini, agrigentino di 54 anni, e Calogera Paino di 74 anni. Una 73enne è rimasto invece gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni di Dio. Il quadro clinico viene ritenuto molto delicato. Ferita in modo lieve invece una 51enne, ma anche lei è stata trasferita in ospedale con un'ambulanza del 118. Incidenti stradali, ma anche incidenti sul lavoro l'ennesimo purtroppo tragico incidente sul lavoro in Sicilia, stavolta avvenuto a Palermo in Via Libertà. La vittima è una 67enne, un falegname che stava lavorando su un'impalcatura alla ristrutturazione di un appartamento, come detto in Via Libertà. L'uomo è precipitato dal terzo piano, sbattendo la testa a un colpo che per lui è stato fatale. Sul posto, dopo l'incidente, sono intervenuti i poliziotti del commissariato Libertà e il medico legale, oltre ai parenti della vittima. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo adesso a Siracusa, dove il questore, con l'approssimarsi delle festività natalizie e di fine anno, ha disposto specifici servizi finalizzati al contrasto del consumo di alcol all'interno di discoteche e sale da ballo frequentate da giovanissimi. A tal proposito, agenti della squadra amministrativa hanno proceduto al controllo di una discoteca di Siracusa, dove era in corso una serata danzante. I poliziotti hanno accertato che un giovane avventore, dopo aver acquistato due cocktail alcolici, ne aveva ceduto uno a un altro ragazzo che, da successivi accertamenti, è risultato essere un minorenne. Gli agenti, pertanto, hanno contestato al giovane avventore una sanzione amministrativa che va da un minimo di 250 euro a un massimo di 1000 euro, per aver violato il divieto di cessione di alcol a un minore di 18 anni. Parliamo adesso di controlli effettuati a Trapani, controlli da parte dei carabinieri e il bilancio parla di 5 denunce e una persona arrestata. Vediamo perché. I carabinieri della compagnia di Trapani hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio dove sono state denunciate 5 persone e arrestato un pregiudicato di 30 anni per evasione. Un 25enne di Favignana è stato sorpreso a seguito di una perquisizione in possesso di un coltello a serramanico di genere vietato e per questo denunciato per porto di armi o d'oggetti atti ad offendere. Un pregiudicato trapanese di 25 anni si sarebbe invece reso responsabile della violazione degli obblighi legati alla sorveglianza speciale, violando la prescrizione di non allontanarsi da casa durante le ore notturne. Durante i controlli alla circolazione stradale è stato denunciato un 23enne ericino per guida in stato di ebrezza in quanto alla guida del veicolo in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all'ingestione di bevande alcoliche accertato con etilometro. Altri due soggetti di 19 e 44 anni sono invece stati denunciati in quanto rimasti coinvolti in due distinti incidenti stradali trasportati presso l'area di emergenza del locale Nosocomio a seguito delle lesioni riportate risultavano positivi al test del cannabinoidi. Durante il medesimo contesto operativo all'atto del controllo di soggetti sottoposti agli arresti domiciliari non risultava presente in casa un nazionese classe 92 arrestato due volte dagli operanti nell'anno in corso per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e per resistenza pubblico ufficiale. Dopo pochi minuti di ricerca è stato individuato a pochi chilometri dall'abitazione mentre rincasava. È stato sottoposto come disposto dall'autorità giudiziaria nuovamente agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. È tutto, a più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia. Autore dei sottoposti